viaggiatori buongiorno oggi faremo questo video extra per condividere ciò che ci è successo qualche settimana fa allora partiamo col dire che siamo al Tarvisio dopo aver lasciato Cracovia aver fatto una breve visita a Cracovia siamo ripartiti e abbiamo fatto bei chilometri questo video extra perché extra perché noi sapevamo che prima o poi sarebbe successo quello che ci è successo ma non pensavamo che sarebbe accaduto in Polonia che cosa è successo che hanno cercato di derubarci e adesso vi mostrerò il video ripreso dalla telecamera all'interno dell'abitacolo di guida che tra l'altro è uno dei sistemi di sicurezza che noi adottiamo perché sapevamo che prima o poi sarebbe successo quindi cosa abbiamo detto facciamo una cosa prepariamoci per il momento che succede in effetti è successo uno dei sistemi di sicurezza che applichiamo è all'interno dell'abitacolo una piccola telecamera posizionata all'angolo dove prende gran parte dell'abitacolo tra cui la parte di guida quella telecamera è accesa h24 è in modalità di registrazione quindi anche se noi non stiamo guardando il display perché è collegato un tablet che è posto sulla sulla cucina sul top della cucina che noi quando siamo in tinette guardiamo ciò che succede o all'interno dell'abitacolo o quantomeno all'esterno dell'abitacolo cosa è successo verso mezzanotte e 40 il cane ha cominciato ad abbaiare in modo molto strano io conoscendo tutto ho capito che stava succedendo qualche cosa però il cane cercava di entrare in abitacolo ma non poteva perché c'era la scaletta che ostruiva il passaggio tra l'abitacolo e la cabina diciamola la parte abitativa ho buttato l'occhio sulla sul tablet e effettivamente ho visto che c'era qualcuno all'interno all'esterno dell'abitacolo che trafficava con lo sportello capite che non è una bella cosa tra l'altro noi guardavamo la televisione una serie televisiva noi la sera non è che andiamo a letta di noi insomma mattina che ci dobbiamo stare per fare qualche cosa di particolare quindi a volte capita che andiamo a letto molto tardi sono entrato nell'abitacolo ho abbassato leggermente il finestrino lui non mi ha visto perché noi abbiamo i vetri sia dalla parte della guida che dalla parte del passeggero leggermente scuri quindi la notte è molto difficile vedere all'interno dell'abitacolo se ci sia qualcuno o meno se voi vede che se ci sia qualcuno devi andare davanti la parte anteriore allora riesce a vedere perché giustamente il vetro è chiaro ma la parte laterale sia dalla parte di guida che dalla parte del del passeggero è molto difficile vedere all'interno ho abbassato leggermente il finestrino c'era effettivamente questo questo tizio questo malintenzionato che trafficava con laseratura era riuscito a togliere addirittura la sicura però che cosa succede che anche togliendo la sicura al nostro camper tu non riesci ad entrare per il semplice fatto che applichiamo questo sistema e questo è uno dei tanti sistemi che noi adottiamo ma sono anni che lo adottiamo questa è una semplice cinta a cricchetto comprata Ikea molto valida molto buona non è di quella roba cineseria che si trova in giro che rimane in mano molto buona come cinta questa qui la posizioniamo praticamente ai due braccioli laterali degli sportelli sia quello di guida che del passaggero mettendolo in tiro con il cricchetto quindi anche alzando la seratura alzando la sicura dello sportello è difficilmente riesce ad entrare perché è quasi impossibile almeno che non rompi il vetro ma in quel caso rompendo un vetro insomma anche se dormi almeno io sono molto leggero quindi anche se frantuno il vetro e poi tagliarla ma insomma capite a quel punto è una cosa è talmente macchinosa che dovresti avere a portata in mano un cortello diciamo che è molto difficile anche perché sporgendoti dalla parte del finestrino non riesci a togliere il cricchetto è troppo macchinosa la cosa quindi non riesci nell'intento questo signore con una sfacciataggine dal video che adesso vi mostro con una sfacciataggine dice sa tu hai abbassato il finestrino si è messo paura lui è fuggito no non è fuggito assolutamente non è fuggito ha fatto il giro del camper dalla parte laterale è passato alla parte anteriore e abbiamo capito che parlava italiano perché ci ha detto delle cose in italiano e lì abbiamo capito che che tipo era che malintenzionato era quello che ci ha fatto male di tutta questa situazione e che ci sia successo in polonia perché noi polonia abbiamo passato giorni giornate intere a posti isolati a quando andava ci ricavamo al supermercato si chiudevamo il camper però sapevamo che in polonia una cosa del genere non ci sarebbe mai successa come in estonia lituania lettonia sapevamo che non ci sarebbe successo la cosa che ci ha fatto più male di tutti e su che che sia successo proprio lì anche se non erano polacchi per carità quest'area di sosta e video sorvegliata c'è il guardiano c'erano macchine a destra e macchine a sinistra dalla telecamera si nota che questa macchina è un audi targa italiana un audi viene avanti si ferma leggermente fa marcia indietro torna indietro questo dizio molto probabilmente ha fatto il giro dietro il camper poi è venuto dalla parte della guida e lì dalle immagini che abbiamo scavolato appunto si nota questo dizio questo malintenzionato ma con una calma ragazzi cioè tranquillo come se non fosse successo niente come se non fosse successo niente questa è una semplice cinta pagata 6 euro se non sbaglio che ha ma è molto valida molto ma molto valida dopo vi dimostro il funzionamento di questa cinta oltre alla telecamera di sorveglianza abbiamo applicato all'interno della della cabina di guida dei sensori di movimento ma non sono posti sono posti in modo che se qualcuno riesce ad entrare nell'abitacolo scatta il sensore di movimento e aziona una sirena la posso garantire veramente veramente fastidiosa fa un rumore mamma mia veramente alto veramente alto quindi cosa succede anche se noi dormiamo il malintenzionato riesce in qualche modo ad entrare nella cabina rompere il vetro entrare nella cabina scatta la sirena insomma quel punto è talmente è talmente macchinosa la cosa che non credo che il malintenzionato rimanga lì un altro sensore di movimento l'abbiamo posto all'interno del dell'abitacolo abitativo e altro sensore di movimento l'abbiamo posto nell'interno del gavone perché voi sapete benissimo che questi cavoni dei camper non è che poi siano così tanto difficili ad aprire quindi abbiamo posto un altro sensore di movimento all'interno del gavone questo è è una cosa aggiuntiva che abbiamo mi devo dire la sincera verità quella sera la volevo quasi usare però ho detto non vale la pena sprecarla questo è il gas orticante che usa la polizia flac libera vendita si trova qualsiasi negozio lo volevo quasi usare vedevo di la sincera verità ma non mi è sembrato sprecarlo per per un tizio del genere bene adesso vi dimostrerò come funziona la cinta il funzionamento della cinta il funzionamento del sensore in modo che se condivido queste cose che se qualcuno volesse volesse dei spunti voi sapete che noi la maggior parte delle volte la passiamo in libera con sei mesi di viaggio abbiamo passato due volte una volta in una sosta camper un'altra volta perché siamo andati ci siamo regati per per carico e scarico a un campeggio voi calcolate che in sei mesi di viaggio in camper la maggior parte il 99 per cento è stato tutta in libera e quindi sapevamo che prima o poi sarebbe successo che abbiamo applicato di sistemi di sicurezza e non ci ha trovato sprovveduti o spiazzati bene adesso vi mostro come funziona il tutto andiamo e questa è la dimostrazione di come va apposta la cinta viene messa qui all'interno del bracciolo viene stesa fino all'estremità dell'altro bracciolo e all'interno c'è il cricchetto quindi voi capite che anche volendo volendo forzare la portiera in quel caso è molto difficile aprirla che adesso vi mostro l'esterno della portiera aperta senza sicura togliamo una sicura che tra l'altro ripeto queste sono molto facili essendo sistemi un po vecchi non è che poi sia tanto difficile aprire una serratura del genere quindi adesso poniamo il caso che il malintenzionato riesca ad aprire in qualche modo la sicura ecco qui che aperta letteralmente è possibile aprire lo sportello o meno che non si frantumi a meno che non si frantumi il vetro vedete anche volendo toglierla cioè è impossibile dovresti a quel punto tagliare con il cortello adesso poniamo il caso che il malintenzionato riesce in qualche modo a rompere il vetro e vuole in qualche modo ecco lì che insomma la cosa rimane molto difficile lo posso garantire all'interno del camper è molto ma molto fastidioso un altro sistema di sicurezza sempre questo tipo di antifurto questa questa sirena con rilevatori che è all'interno del gavone all'interno dell'abitacolo e all'interno del della cabina di guida un altro sistema particolare è che la sirena si può anche applicare momento che sente c'è qualcuno nelle vicinanze in qualche malintenzionato che voglia voglia entravo non so siamo una zona isolata la sirena si può anche applicare tramite il mando e vi posso garantire che funziona funziona veramente bene e come sistemi di sicurezza adottiamo questi poi ce ne sono altri per quanto riguarda il motore anche anche se il malintenzionato voglia rubare il camper vi posso garantire che almeno che non te lo porti via col caratterezza sarà molto difficile portarlo via ci sono altri sistemi all'interno del motore che bloccano sia la messa a moto che quelli di sistemi non ve li svelo perché giustamente meglio che me li tengo per me bene dove ci troviamo al tarvisio e questa zona qui tra l'altro che adesso vi mostro non so se voi avete visto dei video dell'altro anno siamo al tarvisio questa è una delle sosse che noi abbiamo adottato l'altro anno quando siamo venuti in trentino abbiamo fatto sossa anche in questo spot eravamo proprio qui c'era l'acqua al fiume adesso non c'è niente c'è un rigagnolo invece quando siamo venuti nell'altro anno c'era c'era acqua in abbondanza troppo che è sgambettata stamattina si è fatto pure il bagno acqua stupenda questa è la zona siamo proprio a tre tre quattro chilometri da tarvisio città tarvisio e abbiamo deciso di passare appunto almeno due barra tre settimane qui in trentino e poi ci sposteremo la nostra prossima destinazione sarà la spagna quindi da qui da qui a breve inizieremo il nostro percorso direzione direzione spagna bene signori io spero che il video vi abbia fatto piacere e cosa dire ci vediamo alla prossima e seguitici 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 gopro arresta video